Salve amici del Centro Maito Italiano, anticiclone africano in espansione verso l'Italia con più sole e più caldo. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per sabato 10 agosto. Al mattino tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche locale acquazzone, sulle Alpi centro-occidentali. Possibili piogge temporali anche al pomeriggio, sempre confinati sull'arco alpino, asciutto sulle altre zone con sole prevalente e solo qualche nube sull'Appennino. Inserate notate i fenomeni in esaurimento sui rilievi alpini con cieli poi prevalentemente sereni da nord a sud, dando uno sguardo alle temperature, sia le minime che le massime tenderanno ad aumentare. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate come sempre sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Maito Italiano.